Che vuol dire che non c'entra più niente là dentro? Bello, perché non vedi di fare tanto il duro? Lascia che lo scomparto prenda ciò che vuole. Mi stai dicendo di attaccare un'aspirapolvere in modo che risucchi l'intera scuola, Duncan, puoi... Sono giallo, però... Il raggio è leggermente troppo potente, ma almeno non dovrò più fare selfie di famiglia. Che c'è adesso? Ma che sta succedendo? Oh no! Non avrei mai dovuto dare sconto a Cody! Ora basta! Qui qualcuno ha bisogno di un ritocchino. Dai quello a Cody! Sì, è quella l'idea. Obbedisco! Duncan, colpisci Cody. Obbedisco! No, colpisci Gwen! Obbedisco! Cody! Gwen! Cody! Gwen! Gwen! Cody! Gwen! Gwen! Cody! Duncan, fa finta di essere un pollo! Obbedisco! Che senso ha? È divertente! Sta per diventare super divertente! Cody, no! Potresti cambiare per sempre la personalità di qualcuno e sarebbe sbagliato farlo! Bene, allora sta per diventare la cosa di cui hai più paura! Aspetta, no! Adilo nel mio scomparto! Massima potenza! Oh oh!